Ciao a tutti, mi chiamo Francisco Caneple Domenech, ho 34 anni, vivo nella città di Santa Rosa durante la settimana e nei fini di settimana vado a Bernasconi, sempre nella provincia di La Pampa. Le mie origini trentini sono per mio nonno Giuseppe Caneple, che è nato a Villa Manale, comune atistenico, palgiudicarie e adesso sono il coordinatore della zona centro dell'Argentina, che comprendono 12 circoli trentini distribuiti su quattro provincia. I circoli trentini di Buenos Aires, La Plata, Sarate, San Nicolás, Rosario, Santa Fe, Santa Rosa, Chajarì, Concepzione dell'Uruguay, San José, Concordia e San Jaime. Le origini trentini in questa zona sono di tutto il trentino. Alcune delle attività svolte sono corso di italiano, di cucina, piatti tipici trentini, di arte, di canto, di danza tradizionale, anche pranzi tradizionali e dopo sono previste anche attività di solidarietà con le istituzioni sociali locali.